Il prossimo anno il Milan alla seconda gli dà 20 punti Armando vuoi replicare? No, guarda arrivano massimo Cucchiellini e le grottaglie Ma dove vanno? O due spulpi le vinci O due spulpi In via dai A Schiaffoni Allora 4 agosto A Schiaffoni Milan 0 Chelsea 5 Bruno Più di un mese fa ci avevi detto che il Milan Arrivava prima con 20 punti di vantaggio Adesso c'è stato anche un grande acquisto Cosa ne dici? 10 punti 10 punti alla Coppa UEFA 10 punti alla Coppa UEFA 10 punti alla quinta quindi? No 10 punti alla seconda Dalla seconda E poi vinciamo in più la Coppa UEFA Sì? E la seconda arriva la Roma Poi? L'Inter cosa farà? Poi dopo l'Inter e dopo la Euro Fiorentina Capocannoniere e Gelardino Ma arriva quinta E Ronaldinho cosa farà questa? Faville Si riverte Si riverte, guarda Guarda Sono un vero professionista Non sgarro mai Quindi da 20 punti siamo passati a 10 A 10 Vabbò Ci vediamo quando? A settembre Ci vediamo a settembre Per abbassarci il suo Concento Ciao Saluta Ciao